Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa Zuppa di Porro in diretta oggi 14 aprile. Intanto ringrazio tantissime persone che ci hanno seguito ieri, sono due puntate che facciamo il 7% a Quarta Repubblica, molti di voi la stanno seguendo e devo dire che è confortante pensare che anche se tradotto in un gergo, in un linguaggio un po' diverso, anche Quarta Repubblica sta prendendosi forse un po' di quel pubblico che abbiamo qua nella nostra Zuppa, ovviamente con termini e modi di fare un po' diversi rispetto a quelli che mi permetto di fare qua tra noi, però oggi i giornali un po' iniziano a seguirci, a parte che vi segnalo un giornale che è un giornale locale ma che invece sta facendo un lavoro sia il tempo a Roma, sia il mattino a Napoli, insomma io vi dico, mi sono appuntato in questi ultimi giorni le inchieste del mattino, intanto oggi racconta meglio di tutti gli altri il casino della cassa integrazione, perché il casino della cassa integrazione che non è che finisce la cassa integrazione quando tu fai la domanda e la mandi con il bollo da 16 euro alla regione e poi la regione la manda all'Ips, i soldi in tasca devono arrivare, le garanzie ci devono essere, insomma quindi anche sulla questione della cassa integrazione, gran casino, tanto che il mattino dice CIG anche che caos, ma l'altro giorno aveva scritto gli aiuti che avevano dato, zero, dovrebbero arrivare nelle prossime ore staremo a vedere, zero aiuti, zero aiuti e poi l'altra fantastica inchiesta dell'altro giorno sempre era Covid, l'inchiesta tutti gli errori fatti sulla vicenda, insomma un giornale che come il tempo sono quei giornali Napoli, Roma, che potranno anche essere locali, però danno un'informazione diversa rispetto al giornale unico del virus, oggi il giornale unico del virus, partiamo dal Corriere della Sera e ci dice Regioni, riaperture fai da te, ma in realtà le riaperture fai da te sono, le abbiamo già viste, la Lombardia più dura, il Veneto che ha affrontato la vicenda in maniera diversa, test, 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 più aperta e su questo io noterei tra tutti quanti i conformismi del giornale unico, fino a ieri avevamo la Sarzanini che anche oggi ci spiega diciamo il fatto che arriverà come mieli, ve lo ricordate? State a casa, state a casa, se no vi riprende il disastro, oggi però Gramellini riconosce che questi italiani cattiva gente, forse proprio perché hanno paura, non lo so, però in realtà stanno rispettando le leggi come non mai, che è una vecchia questione di cui avevamo già parlato prima, perché sembra che ci siano questi italiani, anche ieri vedevo lo scandalo, una grigliata a Palermo sul tetto di casa loro, e beh, e anche qual è lo scandalo? Una grigliata a casa loro la potranno, magari vivevano anche in casa insieme, però noi quelle file che abbiamo fatto vedere sulla pontina, basta mettere un posto di blocco e sulla pontina vi assicuro per esperienza giovanile si fanno 5 km di fila, perché la gente comunque può uscire se ha il permesso, quindi la fila non è i villeggianti, sono i posti di blocco, ci arriva toc toc, anche il giornale unico del virus, ma in realtà quella foto là, quella della Germania oggi non l'ho vista, la foto della Germania, del parco di Berlino pieno di gente, eppure hanno anche loro il rischio del contagio, eppure hanno anche loro il rischio del virus, pieno di gente loro, mentre noi abbiamo il moralismo giustizialista e poliziottesco dei nostri giornali. Langone, stupendo oggi sul giornale, dice perché in Italia nessuno difende il valore della libertà, in realtà Langone, ovviamente uno che non conosce internet, mangia degli straordinari parmigiani con una favolosa tenuta di vini, però, e non si accorge forse di questa zuppa, perché lui gli fa schifo internet, però Langone, che è un grandissimo, straordinario, oggi scrive un pezzo dicendo e lamentando che gli intellettuali sono lì con questa frasetta e io resto a casa non capendo che cosa vuol dire perdere libertà. Numero uno Langone, ve lo consiglio. Sì, c'è anche la ripresa, che è un altro tema che stanno affrontando i giornali, per fasce di età, perché se poi andate a vedere la mortalità per le fasce di età più basse è praticamente a zero, quelle medie è dell'1,2%, quindi stiamo parlando di un rischio non zero, ma se lo devi spiegare al giornale unico del virus, però evidentemente molto ridotto per fasce di età. Quella è un'altra apertura, divisa per regioni scrivono i giornali e divisa anche per fasce di età. Poi arriva finalmente Travaglio. Ragazzi, secondo voi Travaglio di che cosa scrive oggi? Ve lo dico io. Scrive dei disastri della Lombardia. È l'unica cosa che Travaglio fuori dal giornale unico del virus riesce a scrivere e c'è che tutta la colpa di tutta questa roba qua è di Gallera e di Fontana, non di Gori, non degli amici, solo di Fontana e di Gallera, qualche volta da qualche schiaffettino, cioè la Lombardia per loro dovrebbe essere cancellata, che è esattamente l'idea dei portavoce di Palazzo Chigi, cioè la differenza, tra l'altro fanno un pezzo sull'ospedale, bluff in fiera, solo quattro ricoverati, come se, intanto non è vero che sono solo quattro, ma insomma l'idea che uno fa un ospedale per prepararsi alle terapie intensive e riuscire a costruire con i soldi dei privati senza un euro di Travaglio, una roba di quel tipo, per lui fa schifo, solo perché lo fa la Lombardia, poi l'hanno fatto in Emilia Romagna, l'hanno fatto nelle Marche, l'hanno fatto in tanti tre posti, ma siccome in Lombardia a lui non gli piace, però il punto fondamentale è che tu capisci, e a proposito di giornalismo, Travaglio che segue le direttive di Casalino, perché questo è il punto di Casalino, Mentana, col suo caratterino, che ieri fa una risposta piccatissima, perché dovete sapere che Casalino, Palazzo Chigi, insomma Casalino, vi rendete un po', Casalino risponde e dice noi non abbiamo fatto nessuna conferenza stampa e rete unificata, abbiamo dato solo il nostro segnale, e oggi però Laura Cesaretti, è molto divertente sul giornale, è uno dei giornali che la mette in prima pagina, questo scontro tra la 7 e Palazzo Chigi, già l'idea che siccome Mentana ha detto, questo è il riepilogo, che se avesse sentito l'attacco di Conte a Salvini e Meloni, vi premetto, a Salvini e Meloni, Mentana gli ha fatto un mazzo così, quindi non sono gli amichetti di Mentana, ma per farvi dare il clima della situazione, Mentana ha sempre fatto, e l'ha ricordato ieri sera in un'editoriale, sui 49 milioni della Lega, sulla citofonata, su tutto gli ha fatto un coso così, solo si è permesso di dire, beh se avessi saputo, se avessi saputo, aspetta che rimetto il live qua, che non funziona il live su, non sta funzionando bene il live su Instagram, allora se avesse saputo, se Mentana ieri ha fatto un mazzo così, poi però dopo quando sente che Conte attacca in diretta, in una conferenza stampa istituzionale, Salvini e Meloni sulla questione del MES, beh allora gli dice, beh se l'avessi saputo non l'avrei mandato in diretta, cosa succede? Che invece di stare zitti e muti a Palazzo Chigi, che è una cosa che uno dovrebbe fare, zitti e muti, zitti e muti perché presi col sorcio in bocca, fanno un comunicato stampa e dicono non abbiamo chiesto a nessuno di avere la diretta live o la diretta a reti unificate, scrive Casalino, e beh Mentana dice, ieri, ve lo ripeto perché lo riporta soltanto oggi il giornale così diffusamente, non c'è libertà di qualcuno di dire ora va in onda, questo lo dico io, e dice l'Italia non è il Venezuela, toc toc Casalino, l'Italia non è il Venezuela, solo che si sbaglia, perché Mentana non ha capito che Casalino il Venezuela non sa neanche dove sia, conosce qualche venezuelano, qualche venezuelana, il Venezuela per lui è il problema che viene dal grande fratello e quindi il problema è il confessionale, quello è il metro dei rapporti, scritto dagli autori Mediaset, quindi il problema non è il Venezuela caro Enrico, il problema è il confessionale, comunque Enrico che è più colto, dice l'Italia non è il Venezuela dove Chavez dice alla TV che cosa mandare in onda e che cosa non mandare in onda e la TV è una buca delle lettere del governo, questo dice Mentana ieri a Palazzo Chigi, reggo tutto questo, questa cronaca di Mentana e di Casalino sul giornale e sugli altri giornali dietro e poi vedo il titolo del Fatto Quotidiano, giuro, il titolo del Fatto Quotidiano è questo, aspetta che ve lo leggo perché non voglio sbagliare, qual è il titolo del Fatto Quotidiano? Rai prona alla destra, Rai prona alla destra, ma come ragazzi? Ma c'è uno scontro tra Casalino e Mentana e la notizia è che la Rai sarebbe prona alla destra quando la Rai manda a rete unificate con tutti a pecoronati, come sempre avviene, la Rai è sempre giustamente istituzionale, è un po' come era la Fiat, sta col governo e poi lascia un piccolo spazio all'opposizione, beh insomma tutti a pecoronati, il problema per il fatto è che la Rai è prona della destra, è una cosa che mi fa impazzire sulla incapacità proprio di neanche rimascherare la propria sudditanza al governo Conte. Intanto vi voglio segnalare che continuano ancora le questioni dell'RSA, il cosiddetto scandalo dell'RSA in Lombardia, avvengono in tutta Italia gli scandali dell'RSA che non sono gli scandali, ci sono persone anziane, spesso anche in condizioni non così ottimali e molto soggette a questo nuovo virus. Beh, voi dite questo è uno scandalo italiano, l'unica procura che sta indagando è quella milanese contro il più albergo Trivulzio, perché il fatto è Repubblica, gli hanno fatto un mazzo così, arriva la stampa e poi arrivano i generali della magistratura. Sapete com'è l'apertura oggi del Daily Mail, il giornale popolare inglese, the care home, cioè le case di cura inglesi sono uno scandalo, è l'apertura, è il tabloid, l'apertura è sui morti per virus nelle case di cura inglesi. 30 morti soltanto a Pasqua, dice il Daily Mail, che coglie il sentimento popolare del fatto che ci siano persone anziane che muoiono nelle case di cura, com'è purtroppo, visto questo virus, molto più probabile che per altre malattie. Beh, voi pensate che questo verrà ripreso da qualcuno? No, perché soltanto il problema è la baggina, cioè tu ce l'hai soltanto con l'albergo Trivulzio, poi se avviene in tutto il mondo, se avviene in tutta Italia, questo te ne fotti. Su riguardo all'Europa, beh, la cosa più importante di oggi, a parte Venturini che fa una critica perché giustamente su Corriere della Sera fa un articolo dicendo scusatemi tutta questa emergenza, virus contro virus, e questi qua decidono di fare il Consiglio Europeo il 23 aprile, ma ragazzi sbrigatevi perché il 23 aprile è troppo là. E l'altra vera cosa divertente che non mi aspettavo, Jody Vender, ve lo ricordate Jody Vender il finanziere degli anni Ottanta, fa un articolo sul Sole 24 ore durissimo contro l'Olanda, dicendo che è un paese di cui possiamo davvero fare a meno e insiste dicendo anche che non ci possono dare lezioni di mercato e di rigore. Ma la vera cosa grave è il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che fa la fenomena, parla italiano, fa la buona, eccetera, ieri fa un'intervista che viene ripresa oggi dai giornali in cui dice la seguente cosa, non prenotate le vacanze e i vecchi devono stare a casa fino alla fine dell'anno. Complimenti, complimenti Ursula von der Leyen, tu si vede che a parte il castello forse non hai frequentato posti normali, il Ministero della Difesa dove pare che hai tratto delle consulenze che ancora non hanno ben capito i tedeschi, non hai frequentato le persone normali, perché dire una cosa di questo tipo, a parte danneggiare l'Italia che chi se ne frega, ma tu stai dicendo una cosa che non sai che è negativa in un momento in cui non ci vuole questa roba qua e come Presidente della Commissione Europea ci porti pure un po' sfiga, chiaro? Ma è una posizione politica allucinante, non prenotate le vacanze, a parte che gli italiani, i tedeschi, i francesi hanno bene idea di che cosa fare e non c'è bisogno che ci sia Ursula von der Leyen, ma è un messaggio dirompente dire che non prenoti le vacanze, molto meglio c'è da dire il sottosegretario al turismo, al MIBAT in Italia, la Bonacorsi, che dice ragazzi questa estate andremo al mare, ecco tra le due preferisco la Bonacorsi, non perché sia, voglio dire, ma in un momento in cui siamo tutti agli arresti domiciliari, in un momento in cui stiamo combattendo questa battaglia, ma veramente non puoi dare una prospettiva davanti? Se non dai una prospettiva davanti, voi non andate al mare, voi vecchi starete a casa, la gente esce con i picconi, i picconi, ma questo evidentemente non è un problema per la baronessa, il Wall Street Journal intanto ci racconta di tutti gli stati americani che stanno riaprendo, ma non solo gli stati americani, i giornali italiani sono pieni degli stati europei che stanno aprendo a rispetto nostro, hanno chiuso più tardi di noi, aprono prima di noi, uno di questi è la Spagna. L'ultima cosa che vi voglio segnalare è un pezzo molto bello e molto ben fatto dal sole 24 ore sulle emissioni dei titoli di Stato, noi dovremo emettere 100 miliardi di euro in più di titoli di Stato nel 2020, questo lo dico a tutti quelli che dicono chi se ne frega dell'Europa, chi se ne frega della BCE, noi ne dovremmo mettere 250 nel 2020, 200 sono i titoli che scadono che dobbiamo ovviamente ricomprare e 50 è nuovo, fa bisogno, quindi 200 più 50 fa 250 di titoli di Stato che avremmo dovuto emettere nel 2020, ma siccome stiamo spendendo, in realtà io non riesco a capire cosa visto che non è arrivato ancora un euro a nessuno, ma dovremmo spendere si dice 100 miliardi, speriamo che non li spendano alla Casadino, alla Conte comprando le mascherine per loro e non per gli altri come continua a insistere il tempo, beh siccome dovremmo spendere questi 100 miliardi, 100 miliardi, dovremmo mettere altri 100 miliardi, quindi avremo 350 miliardi di emissioni. Allora cari amici miei, qua dobbiamo pensare in un'Europa che fa orrore, in una Commissione europea che è guidata da Ursula von der Leyen, il Conte Gentiloni che ci spiega che tutto va bene e tutti quanti soddisfatti di questa Europa solidale, stronzate, dobbiamo veramente ringraziare il vecchio operato della Banca Centrale Europea, Draghi, forse esagerato all'epoca ma oggi molto utile, perché grazie alla Banca Centrale Europea il 20% di tutte queste emissioni verranno comprate da loro, di tutto il debito italiano, su 2 mila miliardi di debito italiano, sul sole 24 ore lo leggete, circa il 20%, un po' meno, quindi 16, è della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia, che vuol dire 400 miliardi comprati da loro e continueranno a comprarne. Quindi attenzione, quando voi dite stampare moneta o avere la Banca d'Italia, è esattamente quello che sta facendo oggi la BCE. Poi detto questo, l'Europa in questo momento è talmente un disastro che non troverete mai nessuno che la difende nei suoi comportamenti e oggi capisco l'irrequitezza dei italiani nei confronti di questa Europa matrigna. Della radio ho parlato, tasse vengono rinviate, sugar tax e plastic tax, ci voleva il virus per capire la minchiata. Il vaccino italiano, oggi intervista all'uomo di Pomezia, l'amministratore delegato della società di Pomezia che sta testando il vaccino italiano e titola giustamente il giornale, viene testato a Oxford, perché hanno un accordo con Oxford, ma non viene testato in Italia. Un vaccino fatto a Pomezia, con la collaborazione ovviamente inglese. Gli chiede, all'ultima domanda, sarà un vaccino made in Italy? Lui dice, guarda che io sto prendendo fondi internazionali, non peraltro neanche lo testo in Italia, insomma di made in Italy non direi che c'è poi tantissimo, a parte le persone, il software, Pomezia e tutto il resto. Però il paradosso è che anche le cose buone che facciamo non le riusciamo a riconoscere. Lì, insomma, noi stiamo pensando ancora alle mascherine, cioè a recuperare le mascherine. C'è qualcuno che dice che il problema è della regione Lombardia. Nel frattempo il gradimento di Conte per il Sole 24 Ore sta crescendo moltissimo rispetto agli altri leader europei, più 27 Conte, più 11 Merkel, più 7 Rutte, più 7 Macron, quindi è quello che ha avuto la crescita superiore per le sue apparizioni televisive, sostiene il Sole 24 Ore rispetto agli altri. Totalmente diverso invece il sondaggio della Tecne per l'agenzia dire, riportato in grande spolvero dalla verità, perché dice che due italiani su tre hanno perso la sicurezza su Conte. I sondaggi valgono quello che valgono, soprattutto perché qua di votazioni. Ciao Core, ciao a tutti voi, vi dico e vi ringrazio molto per ieri sera, per avermi seguito così numerosi, ma vi ringrazio anche moltissimo per seguire numerosi la zuppa, vi ricordo che sia su Instagram sia sulla zuppa, mettete mi piace o seguite le pagine, perché questo è il modo per avere notifiche, le sapete là in alto sulla destra c'è la possibilità di chiedere, di far sì che vi arrivino delle notifiche per le mie dirette, in maniera tale di prendermi in diretta e leggere i commenti di Anna, di Barbara, perché abbiamo una burocrazia allucinante sui test farmacologici, esattamente quello che dice lei e tanti altri, ci fidiamo di te, grazie Ivana, grazie Luciana, oltre alla fuga dei cervelli, la fuga dei faccini. Con questo chiudo e vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi, ciao.